Salve, bentrovati a quest'edizione del nostro telegiornale. Arriveranno tra poco le elezioni amministrative in Sicilia fissate per il 5 e il 6 giugno. Si svolgerà il 5 e 6 giugno il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali in Sicilia. Il 19 e 20 giugno si terrà l'eventuale turno di ballottaggio. La decisione è stata presa nel corso della riunione di giunta. La data è stata scelta in modo da farla coincidere con quella delle elezioni amministrative che si terranno nelle altre città d'Italia. Ha approvato anche il piano di ripartizione dei finanziamenti a favore delle scuole di servizio sociale che riceveranno la somma di oltre un milione di euro. Si vota Sortino, Lentini, Ferla e Noto. Via Libera e Tirocini relativi ai giovani che hanno partecipato validamente alle selezioni del Click Day del 14 luglio e del 5 agosto 2014. Questa prima fase riguarderà 800 ragazzi con la previsione di aprire a breve la selezione per la terza finestra. Siamo ormai pienamente nel periodo pasquale, la settimana santa inizia e partono le celebrazioni. Partono oggi i riti della settimana santa alle 9.30. L'arcivesco Monsignor Pappalardo ha presieduto la celebrazione della Messa del Crisma nel giorno del Giovedì Salto. Quest'anno la celebrazione si tiene nella Basilica del Santuario della Madonna e le Lacrime. Durante la solenne liturgia sono stati benedetti gli oli santi, l'olio dei catecumeni col quale si ungono il petto ai battezzandi prima dell'avacro, battesimale l'olio degli infermi col quale si ungono invece sulla fronte e sulle mani cristiane ammalati per infondere forza e sollievo nella malattia. E ancora l'olio del Crisma, olio misto a balsamo con cui vengono unti sul capo e battezzati, sulla fronte e cresimati, sulle mani i sacerdoti, sul capo e vescovi come segno della consacrazione dello Spirito Santo. L'Arcivescovo nel pomeriggio presiderà nella seda cattedrale la celebrazione eucaristica in Kenaddomini, venerdì 25, poi alle 17 in cattedrale l'azione liturgica della passione morte del Signore. E infine sabato alle 21.30, sempre in cattedrale, Monsignor Pappalardo presiderà la celebrazione della veglia pasquale. Infine giorno 27, domenica, giorno di Pasqua, alle 11.30 nella cattedrale, la celebrazione eucaristica. Vicenda Princiotta, il PD fa una precisa scelta politica, lo dichiarano con un comunicato ufficiale, quindi frizioni e confronti ci saranno dopo le elezioni. Intanto la consigliera del PD spiega cosa è avvenuto ieri sotto la sede cittadina del Partito Democratico. Vicenda Princiotta, la consigliera comunale PD torna all'attacco dopo la riunione di ieri che si sarebbe tenuta nella sede del Partito in Biale Teocrito. La decisione unitaria del Partito Democratico di rimandare polemiche, scontri e confronti al dopo le elezioni sembra aver incontrato il favore di tutte le correnti. La consigliera di area riformista intanto ieri era sotto la sede e oggi spiega perché. Quello che si può definire ormai nel caso Princiotta, una delle sue manifestazioni ieri doveva esserci un incontro con la commissione di garanzia del PD, era fissato o non era fissato? C'è stato questo incontro? L'incontro era fissato ma c'era anche una decisione presa dall'intero partito durante la direzione provinciale che ci chiedeva di soprassedere e di rinviare tutti i ricorsi, compreso il ricorso della Princiotta perché ormai è diventato il ricorso, ha dato da destinarsi. I consiglieri, ho letto di ricostruzioni fantasiose di qualche giornalista, i consiglieri sostengono di essere stati ascoltati dalla commissione, io a questo non ci credo perché credo nell'onestà intellettuale dei componenti della commissione che mi hanno mandato una regolare comunicazione di rinvio, se poi i consiglieri fossero stati ascoltati, siccome sono stati sopra, dentro la sede appena 10 minuti, insomma 10 diviso 10, un minuto a testa vuol dire che avevano veramente poco da dire, quando sarò ascoltata io ci vorrà una settimana, non un minuto. Vi dico comunque l'area riformista, il PD ha detto che questo è un momento virgolettato di pace, ovvero di riflessione prima del periodo elettorale, quindi qualunque disputa, qualunque discussione dovrebbe essere rimandata al dopo elezioni. Ma l'area riformista non è mai entrata in guerra con nessuno, la princiotta non ha mai fatto guerra a nessuno, viene costantemente attaccata e si difende come è giusto che sia. Non si fermano le vicende che riguardano il servizio Asacom nelle scuole per i ragazzi con disabilità e disagi, la consulta civica di Siracusa continua a raccogliere le firme, sono arrivate a quasi 3.000. La consulta civica di Siracusa prosegue nella raccolta delle firme per velocizzare la ripartenza dei servizi Asacom nelle scuole. I ragazzi con disabilità starebbero vivendo la difficoltà di un servizio essenziale, ma sospeso intanto. Il prossimo passo è il tentativo di un esposto alla Corte europea. Continua la raccolta firme, è già un numero considerevole, oltre 3.000, vicende Asacom che sta tenendo banco, un incontro a Palermo è andato come è andato, però adesso voi in prospettiva cosa vi aspettate? Noi abbiamo raccolto circa 3.500 firme, appunto a rinforzo dell'esposto che la consulta civica sta provvenendo ad inoltrare alla Corte dei diritti umani, appunto per la violazione del servizio Asacom che è stato interrotto dalla provincia, ma su mancanza della regione Sicilia. A questa raccolta ha contribuito attivamente confe cooperative della sezione di Siracusa, come anche altri enti territoriali di interesse e anche associazioni di familiari. Quello che ci aspettiamo è una punizione, se così possiamo considerarlo, da parte della Corte europea dei diritti umani, appunto per far comprendere che determinate azioni non devono essere più ripetute, appunto perché si tratta di diritti imprescindibili come quello dei disabili e l'assistenza all'autonomia dentro le scuole. L'assessore alle politiche Paola Di Gregorio in consulta, infatti ha contribuito attivamente per quanto riguarda questo provvedimento e quindi anche grazie a lei abbiamo potuto riscontrare un'ottima affluenza da parte delle famiglie e degli utenti, insomma dei cittadini. C'è la pubblicità per qualche minuto, noi ci fermiamo, ci rivediamo subito dopo per la seconda parte. Il nuovo O da Opel, Opel Corsa con Forward Collision Alert. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel. Incontra da Targia a Siracusa. Supermercati Gemar Questa settimana in offerta Galvanino 930 grammi 5,87 euro Coca-Cola 2 litri per 2 1,89 euro Colombamele Gatti 750 grammi 2,89 euro Caffè Lavazza 250 grammi per 2 3,98 euro Uovo di Pasqua Valcor 150 grammi 2,29 euro Maionese Calvè 450 grammi 99 centesimi Detersivo liquido Dash 23 lavaggi 2,98 euro Supermercati Gemar Ogni giorno all'insegna della qualità Fermati nei bar dove vedi questo marchio Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè Da Uni Euro Passione Casa 2016 Gli elettrodomestici che ti amano ti regalano gli assi dello stiro Acquista la lavatrice LG Per te un doppio regalo Caldaia a vapore roventa Estiratore verticale Tutto a soli 499 euro Uni Euro a Siracusa e in Bielorina 55 Uni Euro Batte Forte Sempre Tutto a soli 499 euro 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 Grazie a tutti. 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 uso ponderale di circa 200 volte l'anno. Anche le droghe sintetiche, alcol e psicofarmaci sono in circolazione. L'uso delle droghe si è notevolmente incrementato soprattutto tra i giovani per il conformismo della società, come anche per il bisogno di adeguarsi e per l'insoddisfazione dei valori mancanti rispetto alle attese della vita nell'adolescenza in generale. La civiltà occidentale fondata sulla ricerca del successo ad ogni costo spinge gli individui alla solitudine o alla competizione con gli altri, due estremi non concilianti e con il mondo intero. Quando il successo è raggiunto il rischio è che si può accendere l'autodistruzione, la negazione della realtà, che in certi casi induce per fatti diversi alla tossicodipendenza. Chi è colpito dalle devianze non trova l'interlocuzione sociale, quindi la crisi tra i rapporti umani, sia all'interno della famiglia, così come nei luoghi di lavoro, tra i crocicchi dei bar e nei rapporti sentimentali, è padrona della scena. Ma la causa comune a tutti si chiama noia nel vivere in una società dove domina l'attivismo sfrenato che non considere valori umani, che anzi calpesta al solo fine di raggiungere il senso materiale. Alle famiglie è demandato un compito educativo sensibile, rapportato alle condizioni critiche della corrotta e falsa moderna società. Bene, con questo è tutto. Il Te Giornale si conclude. Vi auguriamo un buon proseguimento di Higrogrado. Grazie. 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 Grazie.